Sono 37.756 nuovi casi di covid registrati in tutta Italia secondo l'ultimo aggiornamento diffuso dal Ministero della Salute, di cui 3.259 in Sicilia. Il dato relativo alla provincia nissena parla di 169 pazienti positivi, tutti in isolamento domiciliare. Nel dettaglio 50 sono di Gela, 45 di Caltanissetta, 20 di Niscemi, 15 di Butera, 9 di San Cataldo, 8 di Mazzarino, 7 di Riesi, 5 di Mussomeli, 4 di Milena, 3 di Montedoro, 2 di Santa Caterina Villarmosa e 1 di Sutera. Ricoverati in degenza ordinaria un paziente di Riesi e 1 di Butera, mentre in anestesia e rianimazione è ricoverato un paziente proveniente da fuori provincia. Dalla degenza ordinaria è stato dimesso un paziente di Gela. Sono guariti dal covid-19 43 pazienti di Caltanissetta, 15 di Gela, 10 di Niscemi, 6 di Mussomeli, 5 di San Cataldo, 3 di Sommatino, 2 di Butera, 2 di Vallelunga Prattameno e 1 di Serra di Falco.